Tutto cominciò tanto, tanto tempo fa. Prima che partissimo per l'Inghilterra. Il mio nome è Tyron Bankston. E domani inizierò la più grande avventura della mia vita. La cattura di un grizzly vivo. Sai che è passato qui. Perché mio padre vuole catturare un grizzly. Non giudicare troppo duramente tuo padre. Sta lottando contro un fantasma. È di suo figlio? Sì, è suo. Inutile è come cercare un ago in un pagliaio. No! Stai via! Paglia, lo dà! Un pizzico di fede a volte aiuta molto, sai? È ancora vivo. Perché l'ho portato qui, Joshua? È solo un bambino. Ho messo a repentaglio la sua vita, sono stato un folle. Se avrò un'altra possibilità, sarà tutto diverso. Lo prometto. Vi ordino subito di liberare quei cuccioli. Allora lei è qui. No! 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 Grazie.